Tra poco, la magia incontra la musica. Italia 1 si colora di note, con Dore Do, Dore Mi. È normale o super? È super! Da Blaswood! No! Per fantastica avventura. Un giro è tornato. Avete smesso di credere nelle favole? Pensate che non esiste l'isola che non c'è. Avete rinunciato a imparare a volare. Peter Pan! Io odio Peter Pan! Hook, Capitano Uncino. Domenica alle 15.30 Italia 1. Dov'è la festa, Polly? Sul mio party bus! Dai, vieni a ballare sul party bus! È sempre una festa! Muoviti in pista, prima fatti bella! Per il ballo! Che schianto! Il DJ è pronto! E la sua musica! Che ritmo che ha! Balla con me! E allora non fermarti! Muoviti con Polly sul party bus! Polly party bus! E in più per te, la mini borsetta di Polly! Balla la la Polly! Ehi, metti il CD di Twister Moves e scatenati! Il ritmo ti guiderà! Attento ai colori! Inventa il tuo passo! Esagera! Segui le indicazioni dei DJ e non sbagliare! Per te è più di 100 basi musicali su due CD! È ora di Twister Moves da MB! Desidera? Lo compro! Hotel è il gioco dove più alberghi compri, più spenni i tuoi avversari! Hotel, divertimento a 5 stelle da MB! Che Ceri Alix è la barretta più buona e croccante del mondo? Ora lo sa anche papà! Certo che un morso però potrebbe anche lasciarmelo! Ceri Alix mulino bianco! Riscopriti genuino! Entra in pista con le motocampioni del mondo Racing Box Yamaha! Pronto! Accelera! Tia! Sfida il tempo! Impennate! Frenate! Incidenti! Sono i migliori vincoli! E ora a Speed Race Yamaha! Le dimensioni raddoppiano! Partenze spettacolari! Massimo controllo! Per vincere serve abilità! Diventa anche tu campione del mondo! Con Racing Box e Speed Race Yamaha Factory Racing Team! Giochi preziosi! Entra nel mondo di Imaginext! Il drago attacca! Ti vende la fortezza! Vai! Fuoco! Ah! Sì! Imaginext! La fortezza del drago e il castello di Brembo! Batman! Gotham City è stata distrutta! Ma è l'ora della Batmobile! Robin insegue i nemici con la Batmoto! Presi! Spara! Due in un colpo solo! La Batmobile! E il nuovo Batman gigante! Alto 30 centimetri! La gazzetta dei maghi e delle streghe! Il mensile per giovani apprendisti stregoni! Prepara l'albero di Natale dei maghi golosi! Vole evitando la pioggia come Harry Potter! La gazzetta è in edicola con il corso intensivo di incantesimi! Un fantasma! Una parete che si sposta! Magiche creature che compaiono nel labirinto misterioso! Apri gli occhi! Segui la tua strada e finalmente il tesoro sarà tuo! Hai vinto! Trova i magnifici tesori del labirinto magico! Da... Tre spaventosi personaggi vogliono impadronirsi di Metronui! Nidiki, il guardiano! Crecca, il cacciatore! E l'alato Turaga Dume! Il destino di Metronui è negli artigli del male! Bionicle, arrenditi o scappa! How do you do the look that's totally you? Crazy look! Blast! Looking totally glam like only you can! Vedi trucchi anche per te! Crazy look! Blast! Brillantini, luci da labbra e tension! Crea un nuovo look con Crazy look! Anche i fashion! Crazy look! Blast! Invento nuovi make-up, originali e acconciature! Crazy look! Per te e le te brazze da G! Blast! Le stupende Megan e Dana e gli esclusivi trucchi arricchiscono da oggi la collezione Crazy look! Italia 1 Hai visto? Si muore! Un capitombolo nel passato! Ma dove siamo finiti? Con il pirata barba nera e il suo leggendario tesoro! L'ordine dorado sarà tutto mio! In prima visione su Italia 1 Tortugoli è la nostra isola segreta! Abrafax! A spasso nel tempo! Domani sera alle 21 e 5 Il pomeriggio di Italia 1 è una festa di cartoni Il prossimo arriva adesso! Filo Il prossimo Il prossimo Grazie a tutti.